Bentornati sulla psicologia e benvenuti ad un nuovo video, una nuova tipologia di video mi viene da dire. Perché? Perché da tre giorni vedo rimbalzare sui social la notizia di Beppe Grillo, della figuraccia di Beppe Grillo. L'unica differenza è che questa notizia viene rimbalzata anche e molto spesso da dei colleghi. E quindi mi sono detto, ma come mai questa cosa? Poi visto nella posta diversi messaggi vostri che mi chiedevate cosa io ne pensassi di questa uscita che ha fatto il politico comico italiano e quindi eccoci qua, guarderemo il video insieme e vediamo cosa ha detto, cosa non ha detto. L'unica cosa è che se sarà politico il video non uscirà. Vedere, poi magari voi lo rivedete. Siamo mezzo analfabeti, c'è un analfabetismo di ritorno, che è pazzesco! Il 45% degli italiani capisce sommariamente quello che gli dici! E fin qui questo è vero perlomeno. Non mi ricordo se avevo fatto proprio un video ad hoc, però ci sono diverse ricerche, tra cui diciamo il fulcro, quella, la chiave di volta è quella del 2009, della Human Development, dove sottolineano come in Italia sia presente un analfabetismo funzionale del 47% nelle persone tra i 16 e i 65 anni. A bozze così! Farfuglia dei concetti! Crede in cose incredibili! Ma di chi siamo? Ma dove siamo? Siamo pieni di malattie neurotiche! C'è gente che... Siamo pieni di autismi! Nì! Un dato fornito dalla regione Lombardia, però non mi ricordo adesso l'anno, indicava come la prevalenza dei casi delle sindrome di autismo si aggirava intorno al 4,5 ogni 10.000 abitanti in Italia, e che però negli anni si registrava un incremento dell'incidenza di questa sindrome. Ora però l'unica cosa è che non si è ben capito se sono davvero aumentati i casi della sindrome di autismo, o se con le nostre conoscenze, con le nostre moderne e nuove conoscenze, si riesce a diagnosticare in maniera migliore. Questo ancora non si è capito. L'autismo è la malattia del secolo, signori! Allora, l'autismo non è la malattia del secolo, Beppe. L'autismo non è proprio una malattia, Beppe. Questo è sicuramente il primo errore, perché non si può parlare, è scorretto parlare, di malattie dell'autismo. In termine tecnico sarebbe sindrome dello spettro autistico, ma se proprio proprio non lo sappiamo, vogliamo ridurre al minimo, blablabla, sindrome autistica. Fatta questa piccola, piccolissima precisazione tra malattia e sindrome, che vabbè c'è un baratro, non è la malattia del... non è la sindrome del secolo, è la depressione la malattia del secolo. Ovviamente io parlo in ambito psicologico, e questa cosa non l'ho detta, non me la sono inventata io, ma nel 2017 l'OMS ha sottolineato il dato allarmante del 4,4% della presenza di questa malattia all'interno della popolazione mondiale. In dieci anni, mi sembra più o meno dal 2006, si è incrementata la percentuale del disturbo depressivo del 18,4%. Un qualcosa magari che può far riflettere è che nel 2015 e nel 2016 il suicidio tra i giovani era considerata la seconda causa di morte. Va bene, primo errore, andiamo avanti. Il secolo, signori, e l'autismo non lo riconosci! Allora, è vero che è difficile fare una diagnosi corretta della sindrome dell'autismo prima dei 4-5 anni, però recentemente, ma anche in realtà da qualche anno, si stanno facendo passi da gigante, gigante. Vi era una difficoltà di fare una diagnosi corretta del 39%, quindi innanzitutto questo vuol dire che il 61% delle volte è corretta. Però, come spiega la rivista internazionale Pediatrics, questa percentuale si sta battendo anno in anno. E questa è una seconda cavolata. Poi, tra parentesi, un altro dato è che per diversi spettri dell'autismo si può fare una diagnosi corretta e replicabile anche prima dei due anni. La ricerca sta lavorando per le diagnosi precoce addirittura, quindi sì, si può riconoscere. Perché, per esempio, è l'Aspengher, la sindrome di Aspengher, e c'è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger. Che è quella sindrome... No, aspetta, non l'ho capita io? Perché, per esempio, è l'Aspengher, la sindrome di Asperger, e c'è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger. Boh, non so che c'è da ridere, vabbè. Che è quella sindrome che di quelli che parlano in un modo e non capiscono che l'altro non sta capendo? Non ho capito. E vanno avanti, e fanno magari esempi che, in un cazzo con quello che stanno dicendo, hanno quel tono sempre uguale. In che senso? Io queste caratteristiche non è che me le ricordavo, eh. Asper, asper. Allora, non è presente un ritardo generale nell'espressione o produzione del linguaggio, nello sviluppo cognitivo, l'età, autosufficienza, l'adattamento all'ambiente, la corsità per l'ambiente nei primi tre anni devono essere ad un livello adeguato al normale sviluppo intellettivo, sono presenti compromissioni qualitative nell'interazione sociale, il soggetto presenta un interesse intenso, circoscritto, o interessi in attività limitati e ripetitive, il quadro non è rattabile ad altri tipi di sintomi, azioni gravate, lo sviluppo psicologico, schizofrenia... Quindi, tra quello che dici te, che spero, credo, di poter sintetizzare in difficoltà metacognitive, qualche disagio, disturbo, memoria, difficoltà a mantenere l'attenzione e questo umore piatto e deflesso, ce ne fosse una! U-NA-UNA! Ce ne fosse una! C'è pieno di psicopatici! Cioè, ma seriamente ha detto così? Hanno quel tono sempre uguale! C'è pieno di psicopatici! Ma hai davvero considerato i due termini sinonimi o sovrapponibili, Beppe? Ti rendi conto che non ci azzecca nulla? Allora, la psicopatia è un disturbo che generalmente si caratterizza per mancanza di empatia, incapacità di provare rimorso, possibili comportamenti aggressivi o devianti e marcato egocentrismo. La sindrome di Asperger, che è quella che ho letto anche prima in maniera ovviamente sintetica, non impedisce il provare emozioni né di capire le emozioni degli altri. Evidenzia solo delle criticità a livello di relazione sociale e dei tipi di comportamento quasi sempre schematici e ripetitivi. Ma oltre le c*****e dette, quello che fa riflettere, diciamo, censuriamoci, sono tutta la marea, la massa di analfabeti funzionali che va a vederlo, che va a vedere queste cose, che si mette a ridere anche. Vergogna. Proprio vergogna. Ah, un'ultima cosa. Poi Grillo si è sentito in dovere di dare delle spiegazioni. Non scuse, attenzione, spiegazioni. Nessuno strumentalizza niente e si può scherzare davvero, davvero su tantissime cose. Ma tu non sei un comico, tu non fai ridere. Beh, e almeno allora preparale ben fatte. Grazie a tutti.